Bentornati! Volete sapere come è andato a finire col cucino? Quello appena nato l'altro giorno, eccolo qua! Vi tocca tenerlo molto spesso o in mano o a dormire con me, perché sennò piange, si lamenta, specialmente di notte è un peccato che disturba. Allora adesso si è abituato a avere la mamma a chioccia, ecco vi a tenerlo come che fosse sotto le piume di sua mamma, che purtroppo non ce l'ha. Mentre faccio lavori con il computer lui mi aiuta ed è contento, basta che non mi schiaccia i tasti eh, mi raccomando. No, no l'hai lunga, metti qui l'altro piede, ecco giusto. Ok. Va bene, ecco qua, alla prossima, ciao ciao. Dai, 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 lassemi scrivere, imparerai fra poco le lettele, dai, dai, ecco dai. Ok. 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 Mi sono mandato gli pipi pari, non è giusto, non è giusto, non è giusto, non è giusto. Ci devo prenderare. Ok. 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 Ok.